Una pioggia di emendamenti rischia di sommergere il progetto delle aree di risulta Pescara. Consiglio comunale importante è quello di oggi e le sedute che verranno perché c'è in ballo uno degli argomenti peculiari per la città. Ma 5 Stelle e centro-destra chiedono il ritiro della delibera così com'è. 4.500 le osservazioni presentate dai cittadini che sono state rigettate interamente dal comune, dice Erika Alessandrini. Noi siamo pronti invece a proporre di accettare alcune delle proposte che i cittadini hanno fatto perché riteniamo importantissimo ascoltare la loro voce. Ci doveva essere un processo partecipato che non è stato fatto a monte della progettazione. Riteniamo doveroso e rispettoso nei confronti dei cittadini dare la loro voce quando è necessario. Presenterete degli emendamenti? Qual è l'iter? Sì, presenteremo gli emendamenti rispetto alla proposta di non accoglibilità degli uffici. Quindi chiederemo invece che alcune delle proposte fatte dalla cittadinanza vengano accolte. Emilio Longhi del PD. Noi eravamo preparati alla trasformazione del Consiglio Comunale in una cartiera perché la produzione di carta per fare questi emendamenti e per bloccare la delibera dell'area di risulta ormai ha raggiunto dei livelli intollerabili. Se qualcuno si vanta di fare battaglie ambientalisti gli chiederemo conto anche di questo. Al di là delle battute, chiaramente è un tema molto importante, è una questione cruciale della città. C'è un partito dei no che avanza, invece c'è un pezzo di città che chiede da anni che l'area di risulta diventi un attrattore e un punto di riferimento per la città intera e noi stiamo provando a fare questo. Per Rapposelli di Fratelli d'Italia. Si sta parlando del futuro della città di Pescara, quindi una delibera determinante che deve trovare assolutamente il consenso e l'accordo di tutti i partiti, ma non solo di tutti i partiti ma anche di quei tanti cittadini, quelle associazioni che hanno portato in questi ultimi mesi e non solo il loro contributo. Noi ovviamente insisteremo anche oggi per il ritiro della delibera e in ogni caso se così non dovesse essere assolutamente non temiamo il voto dell'Aula perché siamo convinti di avere la maggioranza. I emendamenti sono stati presentati anche da Padovano di Pescara domani e dall'Udc. Abbiamo presentato 350 emendamenti perché è lo strumento che ci consente oggi di parlare all'interno del Consiglio Comunale. Hanno preso in giro i cittadini ma anche le associazioni di categoria perché hanno detto loro che nella fase delle osservazioni avrebbero tenuto conto delle esigenze, invece in questo contesto è rimasto come prima 9 euro per un posto macchina, il parcheggio a Pescara sarà diminuito, per quanto riguarda la gestione dell'aria del centro commerciale naturale si va a far friggere, tutto questo perché per vantaggiare sicuramente la grande distribuzione.